Ciao a tutti! Oggi, come promesso, ho un video con tantissimi dei regali per lei! Ed in vista del Black Friday potrebbe essere molto utile giocare d'anticipo e risparmiare un po'! Ho anche fatto il video tanti dei regali per lui! Se ti interessa ti lascio il link qua sopra! Come sempre, prima di iniziare mi raccomando, like per supportarmi e iscriviti al mio canale se ancora non sei iscritto e attiva la campanella per non perdere nessun altro video che pubblico! Per le amanti del tè! Se è amante del tè, queste due idee che vi proporrò le piaceranno sicuramente! Come ad esempio questa tazza a forma di gattino, molto tenera e carina! Il pescionino è un infusore, quindi lo puoi utilizzare per il tè in polvere, altrimenti la puoi utilizzare come tazza normale! Se invece volete farle scoprire nuove fragranze, questo calendario dell'avvento è perfetto! 24 bustine di tè tisane da gustare da sole o in compagnia! Un'altra super idea è questa box con teiera e sperette di tè! Una volta immersa la sferetta nell'acqua calda, questa comincerà ad aprirsi, dando vita ad un fiore e creando uno spettacolo incredibile, che sicuramente la lasceranno a bocca aperta! Per le beauty addicted! E se gli piace prendersi cura della propria pelle, un bel kit di maschere viso è il regalo perfetto! E su Amazon c'è l'imbarazzo della scelta! Io comunque vi consiglio queste perché hanno un ottimo rapporto qualità-prezzo e un inci green! Sono 13 maschere tutte diverse e costituite da ingredienti naturali, perfette per idratare la pelle! E se amanti della skin care, questo kit è l'ideale! Contiene tutto l'occorrente per una profonda pulizia del viso! Inoltre tutti questi prodotti hanno una profumazione rilassantissima alla rosa che la faranno sentire come se fossero in una spa! Per chi ama prendersi cura dei propri capelli! Noi ragazzi vogliamo sempre tenere i nostri capelli in ordine e con gli accessori giusti non sarà più un problema! Io vi consiglio il riccia capelli automatico se vuole onde morbide o ricci definiti! La spazzola lisciante invece se vuole un liscio perfetto e senza crespo! Ed infine la piastra frisè se vuole un look più grintoso e alla moda! Io li ho provati tutti e vi garantisco che sono prodotti dalle ottime performance con un ottimo rapporto qualità-prezzo! E in più se le vostre ragazze avessero bisogno di un video tutorial o qualche trucchetto su come utilizzare queste piastre io ho fatti video! Vi lascio qua sotto in infobox tutti i link per chi ama leggere! Se la vostra lei è un'incallita lettrice regalarvi un bel libro le farà sicuramente piacere! Io vi consiglio questo, La sovrana lettrice! Una lettura divertente e molto scorrevole accompagnata dal classico humor inglese che vede come protagonista la regina Elisabetta! Volendo c'è anche la versione audiolibro letta da Paola Cortellesi! Se invece la tua ragazza come tutte d'altronde in quei particolari giorni del mese si trasforma nella regina dei draghi sicuramente questo libro lo aiuterà a rapacificarsi dandole qualche utile consiglio per vivere al meglio riuscendo anche a strapparle qualche sorriso! Per le coccolose! Se ama a crociersi nel letto e starebbe in pigiama tutto il giorno beh queste del regalo le piaceranno! Il pigiama di Crudelia per le più modagnole che vogliono mantenere un certo fascino anche in pigiama! Le villains invece se con il tuo gruppo di amiche ne combinano di tutti i colori! Wonder Woman invece se la vostra ragazza è una tipa super tosta che vi aiuta sempre! E se siete indecisi beh il set notte completo di tutto vi risolverà ogni problema! Per lei fashionista! Se una ragazza alla moda e ama le borse questo regalo è perfetto! Le borse personalizzate fatte apposta per lei la faranno sicuramente sentire unica e speciale! Potete scegliere se acquistarle il kit standard su Amazon da realizzare o in alternativa scrivermi per averla già realizzata secondo i sui gusti! Un regalo molto originale che le piacerà sicuramente! Per chi ama i giochi di società! Se la vostra lei ama i misteri e i giochi collaborativi il gioco di Sherlock Holmes le piacerà da impazzire! Potete scegliere tre diverse versioni, ognuna con dei casi da risolvere! Bisogna capire chi interrogare, dove andare e quali indizi seguire per risolvere il caso e scoprire il colpevole! Facendovi immergere completamente nel gioco come se fosse in un film! Per le fan di Harry Potter! Se la magia di Harry Potter è sempre con lei, queste dei la incanteranno! Truss, spazzole e kit di pennelli sono un'idea perfetta da regalarle in combo! Tutti in stile Harry Potter per creare make up fantastici! Se invece volete optare per una sola cosa, beh, vi consiglio il set di pennelli perché hanno un'impugnatura veramente particolare! Se invece volete optare per dei bijoux, beh, questi set sono perfetti! 5 accessori tra collane e braccialetti con iconici simboli del film, uno più bello dell'altro! Per le appassionate di fotografia! Se per la vostra lei ogni scusa è buona per scattare foto, regalo giusto! Questo splendido portafoto è un filo lungo 10 metri, dove potrà attaccare fino a 60 foto! Il filo è costituito da 100 mili led che illumineranno i suoi scatti! E per un tocco in più vi consiglio di accompagnare a questo regale o alcune foto dove vi ritraggono insieme! Et voilà, un regalo super romantico! Per le ragazze zen! Se è una ragazza che ama rilassarsi, queste due idee sono perfette! Kit di 6 candele naturali fatti interamente da cera d'api, ideali per l'aromaterapia! Oppure questo diffusore ad ultrasuoni per creare un'atmosfera rilassante! E in più le diverse luci creeranno la giusta atmosfera nella stanza! Molto utile per ridurre lo stress, fare yoga e studiare! Per le amanti, dei massaggi! Se adora spa e massaggi, ho il regalo giusto per lei! Questo kit per il massaggio viso è l'ideale per rilassarsi! Grazie al rullo di giada che aiuta a distendere la pelle e a ridurre i gonfiori! E per i suoi piedini da fata, un bel massaggiatore ad acqua! Il movimento benefico dell'acqua le darà subito una sensazione di sollievo e di rilassamento su tutti i muscoli del corpo! Ideale per chi sta tante ore in piedi per lavoro o per chi fa sport! Per le neomamme, se la vostra lei è appena diventata mamma, ecco alcune idee perfette! Come questa cornice dove potrà mettere la foto del proprio bimbo e le impronte delle manine e dei piedini! Un'ottima idea regalo che la farà sicuramente felice! Oppure questa deliziosa cornice che rappresenta la crescita del bimbo in un anno! La cornice poi è bianca e si presta benissimo se è che abbia avuto una bimba o un bimbo! Un regalo perfetto che rimarrà sicuramente un ottimo ricordo per la mamma! L'aspirante pasticcera! Siamo a cucinare torte e pasticcini, questo kit le farà illuminare gli occhi! Formato da 106 pezzi potrà divertirsi a creare ogni tipo di decorazione! Con tanto di piatto girevole e spatola, proprio come in una vera pasticceria! Preparatevi a farle da cavia! Bene, spero che questo video vi sia stato utile! Io qua sotto vi lascio tutti i link delle idee regalo che abbiamo visto, così potete darci un'occhiata! Se il video vi è stato utile, mi raccomando lasciatemi un bel like e iscrivetevi al mio canale! Io qua vi lascio altri video che secondo me potrebbero interessarvi, noi ci vediamo alla prossima! Aloha! Ciao! 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 Grazie a tutti.